Buongiorno amici, questa mattina tornerò a fare un bel trekking, andrò insieme al mio amico Daniele, andremo a Serra Monacesca, vedremo se davvero il nostro Abruzzo è così fantasy come molti dicono. Andiamo a vedere. Forme di lupo. Stiamo andando all'eremo di Sant'Onofio, di Serra Monacesca. L'eremo di Sant'Onofio è facile da raggiungere, circa 20 minuti di cammino. Ed eccoci arrivati all'eremo di Sant'Onofio, a Serra Monacesca. Questa famosa fontana di cui parlavo, non so se l'acqua è potabile. Bello però, guarda un altro che in giro, sale così. Entriamo un attimo all'interno e poi proseguiamo il nostro cammino. Ed eccoci qui. Svellato l'arca. Può essere molto interessante, possiamo seguire qualche percorso. Questo altare praticamente nasconde delle grotte. Una grotta che è quella, la parte antica di questo eremo. Questo è stato ricostruito in secondo tempo. Questo non è una luce. Praticamente qua c'è la grotta che prosegue. E questo camerone è buono. Guarda il vecchio altare. Sì, sì, sì. Ma infatti vedi che c'è da di fuori. Cioè questo è stato fatto dopo qua. Non vorrei sbagliare, ma forse c'era solo l'altare così. Senza scoperta. E' bravo, era scoperto. Scoperto, probabilmente. Adesso devo indagare. Ma mi sa che è proprio opposto. Mi sa che è proprio del ligno, secondo me. Capace che non è più riuscito. San Liberatore. Cammino di Celestino. Lo proviamo, Daniel? No, questo va là, tranquillo. Andremo all'aeremo di San Liberatore. Percorrendo questo sentiero. Non l'abbiamo mai fatto. Vediamo un po', dai. C'è pure quello che scende l'aua, così. Eh, ma quello è sicuramente quello. Sarà una bella avventura, dai. Cado? Col ghiaccio? Yes, yes. Dall'eremo di San Donofrio a Maiella all'abbazia di San Liberatore a Maiella. Un tratto del sentiero dello spirito. Guardate che quercia incredibile. È enorme. Aspetta, fra. Stupendo. Veramente, eh? Il bello di queste passeggiate è scoprire sempre qualcosa di questo tipo. Guardate che spettacolo. La faccia la legna con un albero del genere. No, no, no. Bene, proseguiamo, dai. Questa casetta, questo rudere l'avrà piantata questo signore qui in antichità. Comunque dal navigatore ci siamo avvicinati molto all'eremo. Stiamo andando bene, eh? All'abbazia, scusi. Il tratto è una quercia di guilla. Comunque è pieno di segnali, eh. Il percorso è molto visibile. Guarda qua, guarda. Dobbiamo scendere. Allora ci siamo, perfetto. Eccoci quasi arrivati. Davanti a noi la basia di San Liberatore a Maiella. Molto bello il percorso, vero Daniele? Bellissimo. A volte vale sempre la pena intraprendere nuovi percorsi. Quindi dopo l'abbazia di San Liberatore andremo a Castelmenardo. Un sentiero molto agevole, tutto in discesa. Allora, stai... allora... spettacolo Daniele o facciamo il giro ora della bazia se no scendiamo giù scendiamo giù vai 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 adesso andiamo a vedere questa bella oasi si 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 è uno spettacolo ecco qui signori la torre è 40 minuti torre di polegro non ci sono mai arrivato molto interessante 9 e 10 noi noi guardate che fantastico paesaggio qualcosa di incredibile guardate che spettacolo ecco qui alla nostra sinistra le tombe rupestri ed ecco il fiume a lento con la sua acqua limpidissima dobbiamo stare un po' attenti che ci sono le docce molto scivolose come dai un paradiso un paesaggio fantasy veramente da signore degno del miglior signore degli anelli grazie a tutti abbiamo visto il segnare c'è una torre qui sopra si chiama torre di polegra proveremo ad arrivare lì dovrebbe essere a circa mezz'ora di cammino un ambiente altamente selvaggio fantastico non eravamo sicuri se la strada era giusta Daniele com'è? ecco qui tombe rupestri e torre di polegra su questo sentiero poi qua a ricavare facciamo bene sal liberatore quindi possiamo tornare di qua bello bello abbiamo la torre di polegra un quarto d'ora troppo a montepiano 45 minuti poi ritorneremo alla bazia di sal liberatore e poi fino praticamente all'erenemo di santonofrio per raggiungere la nostra auto ok la torre di polegra è davanti a noi eccola lì la torre ci sta facendo sudare ma comunque il percorso è fantastico guardate che paesaggio immaginate quei tempi in cui antichi guerrieri marcavano questi sentieri attento che ti può uscire il drago io ti ho avvisato eccoci qui la torre di polegro erudire di quello che rimane guarda il perimetro interno della torre che ormai purtroppo è crollata in gran parte no troppo fantasy lì c'è la torre ma guardate che paesaggio abbiamo qui intorno giusto per intenderci quello è il block house adesso dobbiamo tornare alla nostra auto che è dietro quella collina circa un'oretta e mezza di cammino adesso proseguiremo per questa strada molto comoda circa un'oretta di cammino ancora fino all'auto area faunistica del capriolo vietato superare il presente limite c'è il capriolo qui dentro e noi ci siamo passati dentro se mi trovo il fiume e no probabilmente guarda la fiume e si a fianco ed eccoci alla basia le batterie le batterie della gopro sono finite continueremo le riprese con l'iphone la basia di liberatore e ora risaliremo qui per questi boschi e dopo questo rudere dovrebbe esserci la nostra bella quercia eccola eccola qui fantastica bellissima siamo arrivati all'auto e dici andiamo a fare il giretto al castello adesso vediamo dai andiamo andiamo in auto aveva un'altra batteria quindi si torna a riprendere di gopro altra bella sfacchinata mi sa dai niente male sempre attento al drago comunque bellissimo qua non c'eravamo mai arrivati c'è una bella fontanella delle grotte chissà che panorama c'è su sono molto curioso Abruzzo Fantasy è dura eccolo qui imponente davanti a noi comunque è pazzesco sono delle mura allucinanti poi ce ne hanno messe di pietre è massiccio sì sì è due metri spesso porca miseria uuuh uuuh sto buco Daniele una cisterna dell'acqua sì possibile enorme eh guarda rendetevi conto quanto è enorme in proporzione a Daniele non oso immaginare questo castello nei suoi tempi migliori come poteva essere guarda bellissimo infatti comunque rispetto a dosi a prenderci dove c'è un altro piano perché guarda qua qua si va sotto qui è tutto riempimento a prenderci No, no, no. Non c'è attenzione! Te l'avevo detto, Daniel. Siamo stati miracolati oggi. Ci è andata bene. Però abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere un drago. Bene, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!